sì sì no 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 guarda stamattina sì adesso al momento un po quello che è che puoi fare pretendere la luna del pozzo ho capito porta pazienza primo luglio sì sì un bel primo luglio 2020 se vabbè nella pazienza poi pretendere che arrivi tutto subito sì ok vabbè senti ha saputo che sono che è uscito anche un nuovo prodotto della prerì sì sempre caviale sì 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 ma io ho ricevuto un pacchettino che non vogliono anche raccontare perché pazzesco se tre prodotti si vede che me li merito se la prerì presenta beauty routine esi ai sin focus i prodotti dedicati alla linea skin cover il nuovo skin cover perfect consiglio a caspita per un'eterna bellezza dello sguardo che hanno fatto lo skin care non è l'asso sì 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 nella cavia l'ax ice cream sì 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 con il suo certo c'è il suo giardino anche adesso perché il covip non fanno il giardino ma sì dai già sai che lo sono bravi hanno modificato un pochino la formula sì 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 migliorato ovvio sì pare che abbiano si sono riusciti a trasformare anche l'acqua del caviale e l'hanno messa nella crema questo questo sigillato non ho voglia di aprirla adesso vabbè l'apro dai profumo favola non è come quelle di vent'anni fa no 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 sì certo ma vuoi che non ci sia la spazzolina per non toccare la roba a parte che la devi tenere questa è tua non puoi non darla in giro no quella è un'altra roba tra in giro qualcos'altro no questa devi mettere il tuo bagno di casa non farla toccare fatenta e non farla toccare le tue figlie metti poco prodotto sai che bambissimo perché concentratissimo metti la tua spatolina lì nel bagno ti raccomando non perde la spatolina perché guarda sì sì come l'ultima volta si vabbè non può fare un cucchiato ma che discorsi però insomma c'è un prodotto come questo non perde dei pezzi dai comunque è nuova c'è la formula premier sì quindi luxury cream aspetta che dico il nome giusto perché se no poi qua non prendi nota tutto so che sono so che prendi nota allora lax ice cream remastered witch caviar premier il kit da cambiare premiera all'acqua di caviaro sì sì certo che c'è la sua formula sì beh insomma se la la tua suocera sì ma è certo ti raccomando sì 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 perché fino a 60 stessi musso come sempre per trovare cosa si abitui ho visto come che effettano si guarda su un caldo come ti dico allora qua abbiamo e il lift best regard mamma mia senza parole guarda sono emozionata anche perché ti dico che il lusso sia doveroso allora si anche in un giardino come al solito con tutte le scritte ok bugerdino, ma no Gio, dai, su, ci devo sempre dire tutto, la solita, taci, taci, il solito pacchetto loro fantastico, non è solito, perché tu quando compri un prodotto, compri un prodotto, trovi un packaging come questo, con la carta, tutto, cioè, scusa, non è sempre quella speciale, ecco, vabbè, guarda, se fai così non lo apro neanche, perché a spiegartelo, bisognerebbe vederlo, allora, no, 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 non c'entra niente, allora, anche l'occhio vuole la sua parte, e il packaging ha il suo perché, non fare sempre la solita che qua, che là, che questo, che quell'altro, che il packaging, non sembra niente lo butti, ma quando tu ricevi un regalo, no, che fai, non tieni conto anche del pacchetto, poi, adesso, non so, non sarai te la tipa, per carità, ma ci sono quelle donne che conservano anche la carta regalo, se, 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 ma di a tuo marito che ti regali la crema, c'è che regalarti tutti sti fiori, che regali sti fiori a fare, che poi muoiono, poverine, questa nuova, ti serve qualcosa, che meraviglia, che meraviglia, questo è il 2018, è uscita la prima versione, poi nel 2019, è uscita un'altra, con un potenziamento, non so che diavolo, mo l'aveva detto lei nella presentazione, non mi ricordo, una biotecnologia, sì, 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 veramente loro sono riusciti a separare questa potenza del caviale, questa ristruttura, sì, insomma, va a leggere un po' le informazioni, sono svizzeri, no, guarda, nessuno è riuscito mai a capire, perché sai che loro come fanno, no, fa fare un pezzettino da uno, pezzettino da un'altro, poi l'assemblano all'interno, ma nessuno sa che cosa c'è, no, non sanno le dosi, no? Sì, sì, tra l'altro, sono due componenti, sta attenta, due componenti, l'acqua del caviale e la crema, con questa cosa nuova che non parla, che nessuno sa che diavolo è, no, no, sì, pensa che addirittura, quando tu mettevi la prima versione, si illuminava tutta la zona dell'occhio, si toglievano gli occhiali, il pressione dei sopracciglia, tu, fino alla, sì, ma secondo te, ma certo che ci hanno pensato, no? E poi, io mi ricordo che si assomiva immediatamente, no, 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 non te lo mettevi, non è che poi dopo un po' veniva fuori, no, si assorbe e poi la pelle tira su anche, questo è un prodotto di serie, poco, ti ho detto, già, metti, pochissimo, ma certo, ma certo, ma certo, allora, praticamente, questo prodotto qua, questo skin caviar, è il lift, ma che fa il lift, lo dice la parola stessa, tac, come te lo metti su, tira su tutto, sì, ok, questo, vedi, no, vedi, non lo vedi tu, allora, praticamente, tu ha due dispenser e tu quando schiacci il, la, come si chiama qua, la pompettina, insomma, sì, dai, non sta a fare tante storie, sì, praticamente, i due prodotti si mescolano insieme, sì, e diventa un unico prodotto, ti raccomando, Jo, non fare come l'ultima volta che ti sei fatto il bagno, ti sei fatto il bagno col prodotto e durato poco, sono prodotti costosi, perché ne vale la pena il prezzo, ma usano pochissimo, no, ma non ha senso sprecare il prodotto, perché poi la pelle, fino a un certo punto assorbe più, non ha nessun senso, perché, no, 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 non è come le solite cremette che compri, che pensi che più ne metti meglio è, no, 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 poi la loro filosofia è che la bellezza è, non è effimera, ma è eterna, perché con il loro, scusa, ma guarda la mia faccia, sono mai 5-6 anni in cui sono i loro prodotti, non c'ho un segno, dai, non c'ho una macchina, non c'ho niente, ma no, ma poi ho arricchito quella qua di caviale, tutto un traffico, guarda, quando fai le presentazioni, quando fai le presentazioni, la priorità, ti giuro, sembra di entrare, non so, alla NASA, sì, ma ovvio, sì, sì, è stata arricchita da un complesso cellulare esclusivo delle priorità, sai che gli svizzeri sono un po' particolari, che fanno tre diversi produttori e poi loro mettono insieme questi tre prodotti e nessuno sa in quanti quantità, in quante formule, ma certo, ma secondo te come avrebbero potuto fare tutti questi anni, gli avrebbero fregato tutte le formule, no? Ma te te pensi che la gente si tutta sentia? Ma dai, su, fai la brava, sì, perché no? Tu metti nel tuo bagno tutte le tue cosine, scusa, aspetta perché ho già messo via l'altra che non sa che questo c'è la mia, io mi metto la posta, scusa, tu fai così, nel bagno, adesso riapro questo, metti con la, sì, ma se tu c'eri nel bagno, i due cofanetti, così, con il suo porta vasetto, non è fantastico, è fantastico, sì, adesso fai il bagno blu, oddio, azuro mare, blu mare, sembra il blu della notte senza luna, vabbè, adesso non esageriamo, però, sì, doveva essere carino, sì, 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 vediamo un po', e poi, ah, c'è un'altra piccola, sì, sai che loro, io sono piccole, sono come Cartier, sì, ma mai si è così agitata oggi, vediamo un po', sì, sai che loro c'erano questi pacchetti pazzeschi, ok, sì, qua, scusa, stavo legendo una cosa, mi sono distratta, eh, madonna, come sei nervosa, mi stai facendo distrarre, aspetta un attimo, allora, qua, cosa abbiamo scritto, Skin Cover Perfect Concealer, hai capito? Concealer, attenzione, attenzione, aspetta, che ho perso un pezzo, oddio, ho perso un pezzo, aspetta, allora, vediamo un po', no, qua, eh, il bugiardino in carta, eh, sì, perché non stava dentro là, no, tutto, vabbè, è scritto piccolo, un pochino più piccolo, oh, mamma, però, eh, vabbè, prenditi la lette di ingrandimento, eh, vabbè, anche io, quando devo leggere cose piccoline, probabilmente, comunque, senti già, allora, senti, vabbè, confezione solita grigia, tutta, sì, poi è, eh, l'astuce in velluto, quello blu, quello solito che usano loro, solito, no, rinforzato, bello, così in borsetta non si, sì, così non baciughi tu, tu vedi che si apre, no, non si apre, figurati se si apre, però se si apre, sì, la borsetta è della donna, c'è di tutto, vabbè, eh, vedo qua che c'è il, la, sì, 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 per fare il massaggino, sì, 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 giri, esce il prodotto, wow, che bello, no, delizioso, vediamo un po', coprenza, sì, 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 ottimo, sembra interessantissimo, sì, sì, molto, sì, poco, metti poco, metti pochissima quantità, ricordati sempre che questi sono prodotti concentrati, non so quella robetta che compri, no, non fa come, guarda, ma rabbio, no, ma guarda che c'è anche il pennello dietro, guarda, c'è anche il pennellino dietro, sì, carino, per fare proprio puntini, non metterlo, non mettere il correttore dove non serve, mettilo solo nell'occhiaia, sì, quello con bruno, sì, ah, sì, in oscuro, dell'incavo all'interno dell'occhio, un po' sopra, non so se si riaggancia, no, è carina qua, devo capire, sì, sì, ecco, si gira e si chiude, sì, no, non so, devo capirmi, pare che sono o 6 o 8 tonalità, sì, questa è la numero 2, mi pare 6 o 8, e sì, anche per quando si è abbronzata, sì, ma ti puoi mettere questo colore chiaro quando ti abbronzi, forse sembra un pandino chiaro, ah no, dai, cerca di avere almeno due colori, così, quello un po' più chiaro, quello un parecchio più scuro, riesci, vabbè, un attimo, vuoi fare come l'altro anno, prendi i solari, poi se non prendi i solari, vedi la prima rabbia, poi non vuoi dire a piangere, le mani, le cose, no, basta, so stufa, no, 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 mi interessa, vabbè, senti, io te l'ho detto, allora, comunque ricordati, non andare sotto il sole, coccente, senza protezione, e se proprio, proprio, proprio ci tiene così tanto, visto che questi prodotti comunque è che te li regalano, ricordati la crema solare, sempre l'aprire, ok, poi per l'inverno, usiamo il white, la linea white, ok, va bene, ma certo, ma tu ti ha struttura questa manfrina, e poi non ti metti un solare decente, ma la madre per normale, no, non sei normale, no, guarda, non perdo più tempo, basta, so stufa, no, 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 ah, ti sono venuta da macchia, vabbè, arrangerti, Comunque se vuoi essere serie, se vuoi fare le cose serie, allora fanno quella roba, seguila lì, prenditi, vai dove vuoi, profumaria insomma, vai dove ti parla, prenditi la linea dei solari, Sì, i solari, sì, ok, va bene, ci sentiamo, ciao, 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 sì, ciao, ciao, giovedì, no, giovedì una diretta, venerdì, venerdì mattina, ok, va bene, ciao, 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 ok. Grazie.